È stato un successo organizzativo e sportivo il Memorial Rosalba Fois-Godi, una gara di equitazione olimpica della specialità Salta Ostacoli, promossa e organizzata dal gruppo ipico di Nuoro in collaborazione col FISE e la Federazione Italiana Sport Equestri, il CONI, col supporto del Comune di Nuoro in collaborazione con la Coldiretti. Una gara che ha voluto ricordare una socia del sodalizio nuorese e prematuramente scomparsa alcuni mesi fa. Nel galopattoio comunale di Prato Sardo, gestito dal gruppo ipico nuorese, sono ritrovati i migliori specialisti sardi della disciplina olimpica con decine di cavalieri, amazzoni e cavalli provenienti da tutta la Sardegna. Numero così alto di concorrenti in città non si vedeva da diversi anni. Concorso importante che ha visto un monte premi di 2.000 euro dedicato alla categoria 140. In questa specialità, articolata in due mancia, ha prevalso Giovanni Carboni dalla Fungaia Riding Club in sella a Sarino. Al secondo posto, Piero Pala degli Olivastri ASD con Galaxia, mentre al terzo posto si è piazzato Antonio Murruzzo del gruppo ipico nuorese in sella a Maniero del Monte Acuto. Ma Coppa e Cocarde sono state assegnate a tutti i cavalieri che si sono qualificati nei primi posti. Quanto ai risultati principali degli atleti del gruppo ipico nuorese, Magda Taras in sella a Marlon Jun si è qualificata a terza nella categoria 115. Alessia Bonamici, quarta in sella a Florian nel concorso 120. Nella competizione 110, Paolo Busso in sella a Miss Flower del Sole si è classificato secondo, mentre quarta è arrivata a Francesca Farris su Giamaica. La categoria B80 è stata vinta da Francesca Purighedu su Torbettaian Gypsy, una competizione che ha confermato l'alto livello dei cavalieri sardi. I rappresentanti del gruppo ipico nuorese hanno gareggiato alla pari contro avversari di qualità.